Volevo chiederti, in occasione del tuo gol che ha sbloccato la gara, il gol determinante, c'è stata una dinamica di protesta da parte dei calciatori del Verona, le abbiamo anche rivisto al replay le immagini, ma non ci è parso se fosse nessuna giocata regolare, dal tuo punto di vista privilegiato, cosa hai vissuto perché hanno protestato con tanta l'avevi in mezzo? Io non avevo capito, quando ho fatto il gol ho visto tutti i giocatori del Verona andare verso l'arbitro, dal vivo non sembrava che c'era fallo, ho solo anticipato il portiere, il più importante è che il VAR ha accettato il gol e che abbiamo vinto questa partita, dopo quello che succede sul campo per me non sono le mie affaire, voglio far vincere il Napoli, vincere con loro, i miei compagni, il più importante è questo. Vittorio è importante perché comunque vada la Juve stasera, girerete alla sosta in testa la classifica, adesso però questa sosta arriva in un momento giusto, Sarri sei un po' lamentato delle troppe vacanze che ci sono, come l'ha affrontata questo periodo di fermo? Lo prendiamo con molta felicità, abbiamo giocato tanto dall'inizio di stagione, penso che staccare un po' ci fa molto bene a tutti i giocatori, tutti possono andare in famiglia, divertirsi un po' e dopo tornare tra una settimana al lavoro, non penso che è un peccato, deve essere una cosa bella e tutti ne approfitteranno per essere in famiglia e divertirsi. Come ti spieghi il fatto che nonostante la qualità del gioco, nonostante i due pali, il Napoli non riusciva a sbloccare il risultato, il Vedona non ha mai tirato verso la porta di Peperain? Abbiamo vinto, penso che questo è il più importante, non dobbiamo cercare le cose negative, abbiamo creato tanto, gli attaccanti hanno fatto un buon lavoro, tutta la squadra ha fatto un lavoro e abbiamo visto che anche Rossi ha fatto un gol, quindi non dobbiamo essere negativi su questo punto, abbiamo fatto bene, abbiamo vinto, adesso stacchiamo un po' e torniamo tra una settimana al lavoro con molta fiducia e molta forza. Questa partita, questa vittoria era importante perché quando riprenderete comincia un ciclo di gare che serviranno per staccare la Juve e prendere fiato? Staccare la Juve, staccare tutti, penso che non c'è solo la Juve in questo campionato, tutte le squadre, l'Inter, la Roma, la Lazio stanno facendo bene, quindi dobbiamo continuare la nostra strada senza guardarli e speriamo che continuiamo a vincere queste partite perché è molto importante per il futuro del Napoli.